scurrogata dai fatti. Allora, c'è il Presidente del Consiglio, Conte, che dice ci rendiamo conto che quanto sin qui è stato fatto non è sufficiente, c'è un diffuso disagio sociale e psicologico, a stretto giro ci saranno nuove misure. Lo ha detto questo il Presidente del Consiglio all'Assemblea della FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercenti, che sono tra quelli, tra le categorie che più stanno soffrendo. Guardate. Sono numeri da bollettino di guerra, quelli presentati all'Assemblea di FIPE e ConfCommercio, l'Associazione dei Pubblici Esercizi. Nel settore della ristorazione solo nel quarto trimestre ci sono state perdite per 10 miliardi, meno 40%, 33 miliardi entro la fine dell'anno, a rischio 60.000 imprese e più di 300.000 posti di lavoro. La pandemia fa paura non solo per le chiusure imposte dal Governo, ma anche ai cittadini stessi che per timore del contagio evitano gli esercizi pubblici, mettendo in serie difficoltà la sussistenza di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie e agriturismi. Le misure del Decreto Ristori non bastano. Gli esercenti chiedono al Governo non solo interventi d'urgenza per contenere i costi di gestione, affitti, tasse e lavoro, ma veri cambiamenti strutturali perché il ricorso allo smart working che ha svuotato bar e ristoranti non finirà con l'esaurirsi dell'epidemia Covid. La situazione è drammatica con molte imprese che rischiano di non riaprire. Di fronte a questa situazione chiediamo innanzitutto provvedimenti di natura emergenziale per tamponare la gravità del momento con i ristori, gli indennizi, i crediti d'imposta eccetera. D'altra parte interventi di natura strutturale per dare una prospettiva, un futuro ancora migliore ad un settore strategico per la filiera agroalimentare e per la filiera turistica di questo Paese. C'è tutto un settore economico che è in sofferenza. Guardate questi cartelli che abbiamo preparato nel secondo trimestre del 2020, 191 mila occupati in meno nel settore del commercio e non va meglio le partite IVA. 36% ha perso oltre il 50% del fatturato, il 43% ha perso fino al 50% del fatturato, soltanto il 21% non ha registrato cali di fatturato significativi. e dove...